ma bella 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 tutto bene oggi siamo qui in un video diverso dal solito in sintesi mi è comparso questo tra i consigliati wow non finisce più e praticamente ho pensato è veramente difficile fare un god bridge ho visto un sacco di youtuber fare punti strani god bridge, briefly, inclined god bridge io ho detto ok impariamo il god bridge piano, 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 non cadere no bro, no, sempre più aggressivo vai oh bravo, bravo, visto, visto, stai migliorando bro no domi, io sarò il pro dei punti no domi, io sarò il pro dei punti no domi, io sarò il pro dei punti ok, allora no cod bridge no 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 questo è il mio punto classico ok ok non è ok portami il cielo oh mio dio che mi fanno? what the fuck? fast bridge come on ok tac tac ok no 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 due tre quattro cinque sei dai fammi per un minuto una volta al lato opposto per favore oh si uuuuuh gg carpi look guarda 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 no ma i dei fam i can do da devo no togli la spi gara adesso mi incazza pah oh non sto respirando scusate no ok poi mi spieghi come ho fatto quel blocchipizzarsi su no 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 ok vai allora vediamo questo tipo come vediamo vediamo si certo no 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 come fanno loro non vanno laterali oh ok finchè non faccio un god bridge lo migliorando go no il mio regolo mi devo fare dieci blocchi dieci blocchi dai uff quattro uff ah no ok 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 no ma che palli mmm 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 oh mamma mia è difficile a meno dieci blocchi dai 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 dieci 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 blocchi di god bridge posta non sono un nabo sono un pro io sono un pro sono un pro go go niente cos'è che sbaglio pazienza uff 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 Quasi studiano i blocchi per colazione Impossibile che loro riescano a farlo, io no, dai No, io non me ne vado finché non riesco a fare dieci blocchi di World Bridge, almeno, ok Oh No Ma sei serio? Perché, 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 perché? Cosa sbaglio? Cos'è che sbaglio? Cos'è? Cos'è? Aspetta Uno, due, tre No Oddio, aspetta No, ho sbagliato No Shift, shift e poi go Go No, no Mamma mia No, 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 no No No, no Cioè, io penso di fare God Bridge, tipo così, adesso Pfff Oh my Oh my Ah 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 Fun Odio il delivero Oggi siamo qui nel video estrazione contest che ho fatto il 16 gennaio, in sintesi avevo messo tre premi in paglio, Uno era il VIP, un altro era un account Minecraft full access, e l'ultimo era un cape del Lunar o dell'Optifine, e oggi andrò ad estrarre i nomi e poi ci sarà una sorpresa verso la fine del video, quindi ve lo consiglio di guardare tutto. Vi ripeto, per favore iscrivetevi, perché questo video mi è costato un bel po', e non è che io faccia chissà quante visual di tutto, quindi se volete aiutarmi condividete questo video, e per favore, per favore se non sei iscritto iscriviti, tanti mi troveranno noioso, fastidioso, ma per favore se pensi che questo non sia vero iscriviti. Ok, perfetto, adesso vi lascio alla schermata del sito, in cui andrò ad estrarre, e niente, bello. Ed eccoci qui nel video estrazione, ci sono stati più di 500 partecipanti, ma solo tre persone andranno a vincere. Adesso andremo su un sito dove praticamente potrò estrarre commenti casuali, e si chiama commentpicker.com In sintesi, questo sito mi permetterà di trovare commenti duplicati e di escluderli, quindi ok, iniziamo a spuntare un po' di robe, iniziamo incollando il link del video qua, quindi qui incolliamo. Quindi adesso andremo a scoprire chi ha vinto l'account Minecraft. Sono 157 persone che hanno partecipato per l'account Minecraft. Marco Sorazzo, ok, Marco Sorazzo hai vinto, quindi adesso vado a controllare se sei nei miei canali Telegram. Ok, andiamo a cercare la sua chiocciola, quindi chiocciola Nick Cool, andiamo a vedere. Oh no, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace Nick Cool, ma non hai vinto. Vediamo, 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 l'anciere, ok, l'anciere, boom, vediamo, eccoti, l'anciere, perfetto. Ok, l'anciere, tu hai vinto l'account Minecraft. Yo, tutto bene, va bene. Ok, perfetto, allora ho una cosa da dirti. Hai vinto il giveaway. È partecipato al giveaway per l'account Minecraft, sì, e l'hai vinto il giveaway, visto che sei entrato nel canale Telegram, quindi hai rispettato tutte le regole. Sei iscritto con la campanellina? Sì, 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 bravo, 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 bravo. E niente, sì, hai vinto l'account Minecraft. Una cosa felice. Mi puoi mandare i dati su Telegram? Eh, sì. Ok, ok, vediamo, 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 Luca Fiore. Ok, Luca Fiore, tu hai vinto il cape. Iscritto nel mio canale Telegram. E ci sei, perfetto. Ed eccoci qua, DragonDH. Tutto bene? Esatto. Bene, 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 bene. Cosa mi dici di bello? Ma, sinceramente, è stato inaspettato, perché non ho mai vinto nulla. Sì, sì, tra l'altro io seguivo, cioè, ti seguivo da un po', quindi è stato fantastico. Brava, hai le notifiche attivate, spero. Sì, sì, ho tutto. Bravo, bravo, è questo che voglio sentire, questo che voglio sentire, perfetto, perfetto. Ok, tu hai vinto il cape, giusto? Sì. Passami il link dal cape che vuoi prendere. Sì, allora, va bene anche se ti passo un cappello invece del cape, oppure deve essere... Va bene, sì, sì, tranquillo, tranquillo, quello che vuoi. Fatto. Fatto? Sì. Quindi adesso controlla se ce l'hai. Vediamo chi esce. Fabri. Ok, VIP, Jux. Sì, ok, andiamo a vedere se sei nel mio canale Telegram. Pasta. Perfetto, ci sei, ci sei, ci sei. Allora, Jux, complimenti, hai vinto il VIP. Adesso, dividimi una roba. Qual è il tuo video preferito? Di carpi? No, di svantaggio. Ok. Vabbè. Non mi ricordo come si chiama, provo a scrivertelo. Sì. Quando c'è il tipo, quella che ci prova con svantaggio. Ah, ok, 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 ok. Allora, la vita di svantaggio è un po' terrestre. Ok, grazie per aver seguito tutti gli step, seguito il canale Telegram e tutto. E ci vediamo fra. Bella carpi. Dai, bella, 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 bella. Adesso, tanti di voi si stanno chiedendo, dov'è la sorpresa? In sintesi, dopo aver estratto i vincitori principali dal giveaway, ho deciso di estrarne altri. E in sintesi, Indigo Cartier ha vinto un kit su Tecnocraft, se non sbaglio. Ed essendo che non voglio andare a distrazione, voglio vedere chi veramente è determinato a fare un video con me. La persona che commenta più... Oh, perché sono nero? Ok, come stavo dicendo. La persona che commenterà più volte questo video, verrà a fare un video con me. Quindi, praticamente, l'unica cosa che dovete fare è commentare tantissime volte. Quindi, iniziate a spammare qualsiasi tipo di commento. Sarei curioso di vedere a quanti commenti riuscirebbe a arrivare questo video. E quindi, niente. Lascia un like, iscriviti e noi ci vediamo a un prossimo video. Iscriviti e revisione a cura di QTSS